Buongiorno, sono la professoressa Mancuso della classe seconda B dell'IC Manzoni a Gruso. Ho avuto la possibilità di lavorare con i ragazzi a questo progetto Tre Passi con Dante e ha dato ai miei alunni la possibilità di studiare e di rivedere la Divina Commedia in modo del tutto diverso, creativo. Sono stati coinvolti, avvolti da questo progetto a tal punto che hanno utilizzato i personaggi che fanno parte della loro infanzia rivedendo un testo che hanno studiato in versi e l'hanno saputo apprezzare. Il punto che è più importante in questo periodo di pandemia è senz'altro il fatto che si sono comunque sentiti vicini perché hanno collaborato in un progetto unico come quello del fumetto. Ed è stata proprio una grande possibilità e l'hanno colta a pieno e sono entusiasti, come sono io entusiasta, di vedere loro felici nel realizzare questa attività. Grazie a tutti.